Piero Lugipardo e Stefano Nava Il proprio destino non possono lasciarsi sfuggire a quest'occasione Stati Uniti che scendono in campo con questa formazione Hanno deciso di affidarsi a un canonico 4-4-2 Due linee da 4 e ovviamente due punte lì davanti Mi sembra una scelta oculata L'allenatore evidentemente ritiene sia il modulo più adatto alle forze mandate in campo oggi Questo è l'undici ritolare della Svezia per la partita di oggi Partono dunque col 5-2-3 Mai come in questo caso i numeri lasciano il tempo che trovano Olestamente devo dire che mi sembra un po' strano E' effettivamente un modulo poco usato ma se l'hanno scelto ci sarà una ragione Aspettiamo di vederlo in azione prima di pronunciarci Buono il recupero, possono ricominciare Buon possesso palla, caccia di spazi Ha risolto la situazione complicata concedendo il male minore, il calcio ad angolo Tiro dalla bandierina corto Contrasto riuscito, palla che rotola via A De Sano sorpresa l'esplosione di Kim Hunter nello scorso match I Lumors parlano di una sorta di punizione decisa dalla CT Davo un battibecco con la giocatrice Ma alla sua età si è più impulsivi ed è facile lasciarsi andare ad atteggiamenti poco professionali Magari la giocatrice ha voluto mandare un messaggio a lei e alle sue compagne Anter Palla schizza via dopo il contrasto Folkesson Occhio al suo movimento Massaggio intercettato Mewis Hunter Tocco impreciso, pallone recuperato Rubensson Passaggio che non era certo tra i più precisi Questo ha agevolato il suo intervento Il 10 a 0 rifilato all'Irlanda nel 92 rimane la vittoria record Nella storia della nazionale di calcio femminile della Svezia Le giallo-blu come sono soprannominate le sue giocatrici per i colori della maglia Hanno subito il loro peggior passivo contro la Norvegia nel luglio del 2004 Battute 4 a 0 C'è un buon anticipo La difesa alla meglio e allontana il pallone Relf Premia la corsa sulla fascia Nessun problema per il portiere Morgan Pallone recuperato senza problemi qui Si avvicina all'area Azione interrotta La difesa spazza via il pallone Mewis Kim Hunter C'è il tocco sulla fascia Hunter Occhio alla botta Gran intervento del portiere L'arbitro assegna il calcio d'angolo alle statunitensi Calcio d'angolo corto Sauerbrun Continua l'affittare dei ripassaggi Chiude bene il triangolo Kim Hunter Mewis Hunter Cerca la rete Palla respinta dal difensore Spazzano via il pallone Kim Hunter Parte il tiro Tiro è respinto C'è stata la deviazione del difensore Sarà dunque calcio d'angolo Palla toccata corta Può contare sull'aiuto delle compagne E c'è il tiro C'entra in pieno il difensore Blackstain Eos Rubenshaw L'extra time sarà di due minuti Skog Erikson Sauerbrun Risultato che premia gli sforzi degli stati A inizio dunque il secondo tempo di questo match Con le due squadre che oggi sono in campo Lo ricordiamo Per la terza giornata della fase a Gironi I tifosi sugli spalti tornano al loro posto dopo l'intervallo E anche noi ci sediamo E speriamo di assistere a uno spettacolo degno di questa splendida Cornice di Pup Folkesson Comodo l'intervento del portiere Bel passaggio Pallone profondo, pericoloso Su va quindi in azione d'attacco Seger Un altro ottimo passaggio Kim Hunter sulla trequarti Prova a calciare Ha sui piedi il pallone del vantaggio Palla sul palo E poi in gol Niente da fare qui per il portiere Su questa conclusione angolatissima Ha trovato un gol di sponda Grande gol Con la palla che è creata Dopo aver picchiato contro il palo Ed ecco dunque Arrivato il primo gol dell'incontro 1-0 Fischer Pallone intercettato senza problemi Palla che finisce in tush Dunque rimessa laterale per gli Stati Uniti L'allenatore decide di cambiare qualcosa Riconquista palla Intercettando la traiettoria del passaggio Dal Kampa Kim Hunter Sembra tutto pronto per il cambio Aspettano che il gioco venga interrotto Pallone che finisce in fallo laterale Ci prova il tecnico ad arrivare al pareggio con questo cambio Una mossa tattica eh Un tentativo di riaprire la gara Sauerbrun Kim Hunter Cerca addirittura la porta Pallone è uscito Sarà rimesso dal fondo Rubensson Sam Brandt Fischer Sofia Jakobson Buona l'idea qui Da lì può andare col cross Continuano a girare palla Cercando il momento giusto Morgan Lloyd Passaggio intercettato Seger Sofia Jakobson Rolf Sono di nuovo in parità Grazie a questa rete Non mollano Non ci stanno a perdere Continuano a lottare Su ogni pallone Sono arrivato al pareggio Con grinta Caparbietà Determinazione Non hanno alcuna intenzione Di rendersi anche di fronte Ad avversarie nettamente più forti Almeno sulla carta Hanno pareggiato Dunque 1-1 Sauerbrun Lloyd Kim Hunter Numero Che giocata Folkeshon Rolf Rubensson Skog La giocata profonda Verso l'attaccante Buona Jakobson Sicuro Qui L'intervento del portiere Kim Hunter Morgan Lloyd Kim Hunter Ha perso il pallone Ottima lettura Della Sauerbrun Lloyd Morgan Morgan Distinto il difensore Pazza via Il pubblico accompagna L'uscita dal campo Di questa giocatrice Tra gli applausi Ha giocato un'ottima partita A mio giudizio Tra le candidate A premio Di migliore in campo Kim Hunter Palla vagante Adesso Gara ancora incerta Risultato in parità Tutto può succedere Rubensson A spazio per andare La mette in mezzo Intervento comodo Della difesa Favoloso L'intervento del portiere Che strozza in gola L'urlo di gioia Dell'attaccante Stava già per risultare Una parata Incredibile Tutto è pronto Per il cambio Si attende solo Il segnale dell'arbitro Vediamo se questa sostituzione Riuscirà a portare Nuove energie Nuove idee E siamo entrati dunque Negli ultimi due minuti Occhio a questo lancio C'è la verticalizzazione Sprecano la ripartenza Si giocherà ancora Per due minuti Sembrant Rubensson Hanno ancora Una possibilità Per cercare la vittoria Cross Calibrato male Palla che attraversa Tutta l'area E finisce Con un risultato Che spalanca Le porte degli ottavi Agli Stati Uniti Prosegue dunque La loro rincorsa Al quarto titolo mondiale Obiettivo dichiarato Alla vigilia Certo la concorrenza È forte Ma loro hanno le qualità Stefano Un risultato